Buongiorno ragazzi Buongiorno Davide Buongiorno Come stai? Bene, la grande Con una giornata così Per forza bisogna stare bene Allora oggi andremo a pescare i tonni No 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 Andremo a pescare i serra Oggi no No Allora oggi Sarà una giornata un po' particolare Perché in barca con me Ci sarà una persona Che poi dopo Vi svelerò chi è Devo faccila vedere subito dai Vabbè è la mia fidanzata E stavo scherzando Eccola qua Buongiorno Buongiorno E insomma Oggi faremo una pesca tranquilla Eh ma come si chiama Diccio Ah Sara Sì hai ragione Sara Svegliati Che è autunno E niente Oggi faremo una pesca rilassante Una pesca adatta alla famiglia Infatti lei non ha mai pescato E vi farò vedere Anche le persone che non hanno mai pescato Che riescono a prendere le seppie Perché oggi andremo a fare una puntata alle seppie Ah Infatti adesso ci allarghiamo un pochino Andiamo su quella batimetrica che ho trovato Anche gli altri giorni dove ho trovato le seppie E iniziamo a pescare Così facciamo una bella giornata Poi dopo vi spiegherò un po' tutte le cose E vi farò vedere una persona che non ha mai pescato Che riesce a prendere le seppie Se ci riesco io sono sicura che ci riuscirà a prendere Ci riusciranno tutti Sì tranquilla Allora noi abbiamo fatto questa scenetta Ma io per la Sara ho portato una cosa Che ti ha portato? Aspetta che ora la prendo Aspetta Loro non le sanno La Sara è brava a cucinare le seppie Diciamo che se la cava Con cosa le fa le seppie? Con piselli Eccoli Ho portato i figelli Ti vanno bene questi qua? Sì La facciamo cucinare alla nonna Nata Alla mia nonna Va bene Facciamola fare alla mia nonna E lei prenderà qualche seguito Io maggio Io assaggio Va bene Capito Va bene Allora andiamo a pescare queste seppie Dai Divertiamoci Marco Volpi ti ha dato il permesso di pescare le seppie? Ascolta Io con Marco non ci ho parlato Però ho avuto un altro permesso Comunque Marco lo saluto Oggi si pescherà con le sue esche Quelle che ha ideato lui Perché sicuramente sono delle esche eccezionali Perché ci ho preso delle seppie Noi siamo suoi discepoli Noi siamo suoi discepoli Ora peccato che non ho il santino di Marco sulla barca Eh ma ci vuole un bel santino Eh lo volevo mettere qua Perfetto Dai ci vediamo dopo No a pescare vai Vai Allora andiamo subito la prima seppia della Sara. Vai Sara piselli ce l'abbiamo già. Preparati che qui c'è da cucinare. Sara detta così vorrei calcolare i pisellini. Io stavo sempre preparando la roba. Siamo un po' incasinati. Abbiamo messo giù anche una canna con la telecamera subacqua per cercare di fare uno strike in diretta della seppia non sarà semplice questa diciamo cosa è successo l'ha inseguita fino a galla era proprio cattiva. Questa l'ha inseguita proprio fino a in cima. Poi gli ho detto vai calala un pochino, l'hai calata un pochino tac c'è rimasta. Brava Sara, hai visto? Grazie, grazie. Vai. Sì, c'è, c'è. Piccolina. Piccolina seppiolina. Allora, si rilibera. Questa si rilibera. Si rilibera, si rilibera. Eccola qui, aspetta eh. Questa qui, seppiolina piccolina. Vai vai. Via. Va lì. La cuccia. Mi ci ha dato quattro bastonate sulla testa. Brava Sara però, è la sensibilità delle donne, vedi qual è il discorso. Sono così piccolina e da vicino. Ma te non stai pescando, come mai? Io non sto pescando perché sono a fare solo montature però. Sto facendo paura di fare tutti. Eh sì, stamani con la sensibilità delle donne purtroppo non c'è chance. Abbiamo presa una anche con la telecamera, al subacqua è in diretta e quindi mi sto dedicando a cercare di farvi vedere queste immagini spettacolari. Io come vedete sto finendo di fare. Eccola dai, facciamo vedere cosa stai facendo. Finale del fuorocarbo. Allora, sto pescando con un finale dello 035. Infatti sto facendo la montatura adesso. Lo squid che sto usando è un 10 cm. WLP Marco Volpi. Ci tengo a precisarlo. Sono degli squid ideati da lui e veramente con dei tessuti meravigliosi. L'elicottero è passato, ci siamo fermati, stanno dicendo dei tessuti meravigliosi. Sì, sono degli squid che ha fatto Marco con dei tessuti meravigliosi, molto catturanti e anche luminescenti perché quando arrivano sott'acqua fanno dei bei riflessi. Ora ve lo faccio rivedere. In questo momento sto pescando con il nero perché è il colore che sta, diciamo, catturando di più di tutti in questo momento. Hanno la doppia coroncina dietro perché questo qui è una cosa in più per quando la seppia attacca per non farla sganciare. E poi la particolarità di questi squid è il discorso della piombatura perché sono stati ideati in una maniera tale che il nuoto risulti il massimo naturale più possibile. Non ti vorrei dire ma mi sembrava che lei ha il pesce. Ce l'hai? C'è il pesce, abbiamo un cefalopode. Mi sta sorprendendo questa ragazza. Fa tutto lento. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Aiutiamola. Sì. Seppia in diretta. Dai, portala tu pianino. Pianino, pianino, pianino. Vai, vai, vai. Bravissima. E tre a zero. Tre a zero. Io chiacchiero e lei cattura. Ecco, adesso la mettiamo per il risotto di stasera. In manca, in manca. Anzi, se piego i piselli, Sara? Pisellini. Io piselli l'ho portato. Quest'operazione ho da fargliela vedere perché ancora la deve capire. Non ha mai pescato, ripeto. Perché basta appoggiare l'esca nell'acqua. Facciamo andare giù, chiudiamo. Il filo entra in trazione. E la canna passa. Come si prendono, l'ho già capito. Come si prendono, l'ha capito. Mentre parlavi, l'ha presa. Quindi non è che non c'è trucco e non c'è inganno. No, direi proprio di no. Ora io guardo se sulla telecamera subacquea, siccome abbiamo già avuto un attacco che si è slamata proprio sotto barca, guardiamo se c'è qualcosa. Un attacco diretto. Eccola qui. Si staccano di qui e si attaccano di là. Si staccano di là. Fina qua di casa. Fina qua di casa. Fina qua di casa. No, ci si perdono. Ci arriva, ci arriva, ci arriva. Vai. Come si chiama questa canna qua? Questa qui si chiama Magic Seppia. Me l'ha data Paolo Cavazza da provare. Due metri e dieci con azione chiaramente morbidissima. Adesso ci spostiamo un pochino più a largo perché siamo venuti un po' troppo in terra con lo scarroccio. Che è giusto che ci sia lo scarroccio perché in questa maniera qui fa una bella passata lunga. Però siamo andati un pochino oltre zona e adesso si arriva a cercare la batimetrica dove abbiamo avuto più attacchi. Sì, almeno continuiamo a divertirci. La Sara ci sta facendo un mazzo così a tutti. Eh Sara? Dai, stava brava. Vedo che ci sono tante barche intorno a te. Sì, piano piano si stava popolando il mare, sì. Ma a tattora noi andiamo e facciamo il nostro. C'è tanto ci divertiamo, le seppie ci sono. Così dopo ci parli delle varie canne, mulinelli, esche eccetera eccetera. Tutto, tutto, dopo vi dico tutto. Cerchiamo di fare qualche seppiolina, va? Sì, sì, va bene dai, andiamo. Questo qui è il punto dove abbiamo iniziato a pescare e abbiamo fatto tutto uno bello scarroccio dritto verso riva. E adesso ritorniamo nel punto. Questo? Tutto filmato? Impara, eh. Tutto filmato in diretta, eh. Piano piano impara, eh. Attenzione, eh. È pericoloso. Basta fare un po' di pratica. Vai Sara, prendi, dai una bella seppia. Che me la gusto già con Piselli stasera. Non è, è che nuovo. Non è. Quattky. Mi piace, vedo. Quel gitz. Con il sacco. Un corpo più difficile 50 cm. Un corpo deficiente. praticamente mangiando solo e esclusivamente con colori scuri che potrebbe andare anche un viola però ora abbiamo degli squid marroni, neri e sì che usiamo quei colori lì che ho visto insomma sono quelli un pochino più accatturanti secondo me anche le condizioni del mare, l'acqua è limpidissima del cielo, del sole così un colore così forte che risalta magari le attira un pochino di più magari quando è un pochino più nuvoloso si va su colori un pochino più sul chiaro tipo il bianco, tipo un colore acceso come potrebbe essere un arancione però oggi abbiamo visto che funzionano questi colori quasi e noi continuiamo con questi colori scuri allora perché non mi fai vedere come è fatta una montatura? allora te la faccio vedere sempre sacrifica una canna sacrifica intanto questa che canna è? allora questa è una Kizuri, sempre 2,10 metri con un casting da 0 a 10 grammi, molto morbida questa che è adatta anche per fare i rock fishing, sono cannine meravigliose, leggerissime guardate quanto è morbido il cimino, perché qui si avverte le tocche anche più piccole per fare la pesca con una grammatura limitata come questa che stiamo facendo adesso è perfetta perché sfruttiamo lo scarroccio della barca, un pochino di movimento della barca prima, hai messo un piombo da quanti grammi? un piombo da 20 grammi, poi vi faccio vedere che piombo passante è con una girellina, con il moschettone, ho fatto una piccola asola un'altra girellina sul beccuccio del nostro pesciolino con la girella un metro di finale? ma nemmeno un metro, forse qualcosa di meno, sarà una sessantina di centimetri il mulinello? il mulinello è un Viral 2000, comodissimo, piccolissimo, leggerissimo, per queste canne qui è l'ideale e bovina un po' di treccia sì, un pochino di treccia che mi sembra che sia una 15 libre, una cosa del genere ma che lo uso anche un pochino per lo spimming leggero come si chiama? La treccia Viral? Viral, la treccia Viral tanto la Sara si è un po' fermata siamo spostati, ora ora le ritroviamo tranquilli la pesca delle sette è così sì, infatti quello che vi dicevo prima è una pesca adatta alla famiglia se volete passare qualche ora al mare senza troppo impegno con poco materiale perché veramente il materiale che si impiega è veramente poco una volta che abbiamo qualche squid colorato, due cirellini, due piombi e una cannina praticamente è fatta, non è che bisogna fare delle montature particolari come avete visto è molto semplice, è un piombo scorrevole è una pesca veramente tranquilla questa qui però è divertentissima anche perché poi dopo quando la sera si vanno a pulire che si mangiano quindi te che fai? lo lasci appoggiare sul fondo? sì, io praticamente lo lascio appoggiare sul fondo poi dopo c'è anche un altro trucchettino quando sono delle giornate tipo così però abbiamo visto che comunque sia danno lo stesso io do dei colpettini di motore per scarrocciare un pochino più veloce per fare la passata un po' più veloce perché delle volte le stimoli leggermente se passi un attimino più veloce siccome è un predatore e la seppia pur che sembra una cosa strana ma è un predatore anche molto accanito gli piace un pochino di movimento abbiamo visto che i due si sono slamati praticamente sotto la barca hanno mangiato un'esca che era lì era ferma io ho lasciato l'esca praticamente a mezz'acqua come si dice con il dondolio della barca praticamente si muoveva leggermente comunque in assetto perché l'esca funziona in una maniera incredibile in assetto così la seppia l'ha predata e dopo l'abbiamo presa cerchiamo di prenderne qualcun'altro vai se no mi sa che ci vuole un'altra scatola di piselli piselli con le seppie con le seppie seppia in diretta come direbbe qualcuno seppia in diretta. Ci stavamo spostando quando ho detto seppia seppia. Vediamo se per caso sotto qua riesco a qualcosa. Se c'è una c'è anche quell'altra. Io guarda l'avevo già tirato sulle canne. Ero già pronto. Mi ha fatto un giretto con il drone. Ho fatto un girettino con il drone. Vediamo se viene su qualche cosa. Ma da lì per conto suo girova capo. Si guarda un po' se riesci a vedere l'azione di questo gamberotto qua. Guarda. Quello che dicevo io, sempre in assetto. Nonostante le cercatine, i colpetti, comunque sia, non si cappotta mai. Potremmo far vedere con la GoPro se non fosse che un minuto fa è caduta e si è rotta. Peccato. Quindi siamo fortunati. Comunque vediamo bene l'assetto in questa maniera qua. Quello che dicevo prima. Veramente Marco ha fatto un lavoro meraviglioso con il bilanciamento di questi pesciolini. La magic seppia è una canna creata e studiata appositamente dal per fare questa pesca ai cefalopodi. È in tre sezioni. Ora è montata. Ve la faccio vedere dopo smontata. Praticamente con il manico. Un pezzo che arriva quasi fino a metà canna e il cimino. Si chiede in tre pezzi. Trasportabilissima. Perché ingombro in macchina è veramente ridicolo. ed è una canna estremamente sensibile per fare questa tipologia di pesca. Un cimino molto morbido. Io ho sentito qualcosa che sarebbe clamoroso mentre parlo. E abbinata a questa canna Paolo mi ha detto di far vedere questo mulinello nuovo. Nuovo entrato in casa Tubertini. Lo Icon 3000 che è un mulinello da spinning. rifinito molto bene. Frizione molto fluida. Leggero. È veramente adatto per canne di questa tipologia. E canne medio light per lo spinning. Comunque sia è veramente un bel mulinello. Anche come colori. dorato e nero. Adesso qui veramente farà un bel successo. Jonatha! Questa ragazza sta imparando un po' troppo velocemente. Va beh, l'ultima volta che la portiamo in barca. Basta si, basta. No, lì si è staccata! Ai 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 ai. Dai, la butta giù! Putta giù, butta giù che ti arriva. Ritorna, ritorna. Eccola. Pronta? Sta ferma lì? Sta ferma lì, sta ferma lì, che ora lo... Dai dai, tira un attimo su, su su. Poco poco, ferma lì. Sta ferma lì. Vediamo l'attacco in diretta se lo dà. Purtro di su. Purtro di su. Purtro di qua, buttaglielo su. Ci siamo, eh. Noi diamo. Un'altra canna che sto adoperando per questa peschina qui è la Shibuya, sempre della Seika. Lunghezza sempre 2,10 m perché troppo lunghe per la barca non vanno bene. 0,10 m di casting, morbidissima anche questa qui. Oltre che una grafica che è veramente carina perché gialla con il fluo così e tutta nera è veramente bellissima. Abbinato ho messo su un Vira al 3000. Sono tutti mulinelli che poi uso principalmente per la pesca a spinning. Comunque sono perfetti perché sono leggerissimi. Non sembra veramente di non avere niente in mano. Brava! Questa è bella. Guarda che bella seppia che ha preso la Sara. Oh, che squid l'hai presa Sara? Che colore è quello lì secondo te? Questo è rosso? È un colore un pochino cangiante, vedi? Sì. Ma che borsicate che ha preso. Brava, bravissima. Jonathan ci fa neri. Jonathan ci fa le seppie neri. Anche. Tutto. Che casino. Ogni tanto eh. La tua barchina nuova te la sta sparcando tutto. È proprio così lava. Che ci puoi fare? Va bene, va bene. Se tu Bertini fa un prodotto poi magari ce la cia. Per pulire la barca dalle seppie secondo me... Ti lo dico a Glau cosa ce la fa? Fa un... Un'azienda a sé solo con quello. Eh. Hai visto quello che dicevo prima no? La sensibilità delle donne. Io quella lì. L'ha presa in una maniera. Proprio tirando su così. E poi ho sentito, ha mollato. E poi dunque. Gli hai ripartito. È quello che bisogna stare attenti. Bisogna imparare diciamo. Perché alle prime armi. È il recupero della seppia per non farla staccata. No no. Deve essere un recupero lineare. Non a scatti. Ma deve essere una cosa tranquilla. Non troppo veloce. Proprio per riuscire a portarla al più vicino possibile alla barca. Se c'è il guadino tanto meglio. A volte mangiamo bene. A volte sono un po' più... Un po' più cattive sì. Sì. Per non di altro eh. Perché siamo un fascia protetta. Sì sì. Vabbè allora non si può dire. C'è da muoversi un attimino perché guarda. Vabbè una decina di seppi l'abbiamo già presa quindi. Sì. C'è da levarsi da questa zona qui. Perché sotto incomincio a prendere un po' Da noi si chiama picchione. Quel peletto rosso. Che sono residui praticamente. Delle piante in decomposizione. Delle alghe. Insomma tutte quelle cose. E poi sulla spiaggia diventa il lavarone. E da noi diventa il lavarone. Esatto. Ora ci si muove. Ci si sposta un attimino più a sud. E vediamo di riuscire a pescare in una zona pulita. Fra un po' siamo a casa del volpi eh. Dopo se ci vede che gli si pesca le seppie. No Marco non farei mai lo sai. Guarda ci sono le Alpi Apuane sullo sfondo. Quindi siamo ancora in provincia di Lucca. Guarda anche te le prendi Davide. Ma sai quando mi tocca la canna a mano. Può darsi che ogni tanto succede. Dai allungati Sarina. Se no questa che si perde. Eccola lì. L'hai visto? Grande. Abbiamo imparato anche a fargli guadinare le seppie. Ora al prossimo passo quale sarà? Chi lo sa? Imparai a cucinarle. No vabbè quella. Quello che ho capito. E questo mi sa che è importante. Quello che ho capito le cucina la nonna. E quindi allora è un po' mica bene. Eccole le nostre seppiotte. Guarda che belle che è. Ci siamo dovuti spostare un pochino. Sì. Ancora una volta? Perché c'è sempre questo sporco sotto. Eh sì. E' noioso questo sporco qua. Perché non ci fa pescare. Chiaramente le seppie stanno nel pulito. Che abbiamo messo un moto. Abbiamo fatto. Vabbè. 100 metri eh. Non di più. Però l'importante è uscire dalla zona dove c'è questa peluria sotto che dà fastidio. Chiaramente ci impedisce di pescare. Allora te parlavi del discorso dei colori e hai detto diciamo la cosa sostanziale. Sì. Quando c'è l'acqua chiara esche scuro e quando c'è l'acqua scura esche chiare. Sì teoricamente poi non è che è una costante eh. Perché bisogna vedere quello che gli piace di più. Ogni giorno è differente. Ora per dire due giorni che mangiano sullo scuro. Però ho sentito anche dei miei amici nei giorni precedenti. Hanno mangiato su dei colori tipo arancione e viola. Viola un po' acceso. Diciamo una cosa. Quando le seppie ci sono. Mangiano. 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 L'importante è che l'esca abbia certi requisiti. Sì no l'esca è importante perché non tutti gli squid sono uguali. Per dire questi qui che abbiamo usato oggi sono veramente perfetti. Anche perché uno fa la prova del fuoco. Lo fa nuotare lineare. Se vede che il pesce va dritto perfetto senza troppo inclinarsi in avanti o senza troppo stare indietro. Quando ha l'inclinazione perfetta vuol dire che è veramente uno squid fatto bene. E questi sono squid eccezionali per fare questa pesce. Che ci prendono chiaramente. Marco ci prende i polpi. Ci prende anche i polpi. Ci prende i totani. Ci prende i calamari. Ci prende un po' tutto. Anche al limone abbiamo fatto la frittura vista. Esatto esatto. Però adesso mi piacerebbe fare un bel risotto corposo. Se che prendiamo qualche altra seppia in più che ce la mettiamo da parte. Tanto la Sarina è dietro che muove le canne, fabbrica. Sara vieni qua un attimo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Guarda te mi abbagli. Eh sì. Cosa volevi chiedere? No io gli volevo dire. Che ti sembra questa peschina qui? Che te che non hai mai pescato. È una pesca divertente. La Sara mi dovresti guardare. È anche rilassante. Non si è capito. È una pesca? È abbastanza divertente però è molto più rilassante via che divertente. Poi con un mare così è uno spettacolo. Quindi anche per staccare un pochino è veramente piacevole. Infatti è quello che dicevo prima. È una pesca semplice. Si può dire pesca perché è pesca però è una cosa veramente che ti fa staccare la spina. Stai qui tranquillo ogni tanto ti risu se c'è la seppia. Prendi un po' di sole. E ti rilassi. È una pesca proprio adatta per le giornate con la famiglia ecco. Bimbi tranquilli proprio. E poi basta poco. Basta veramente poco come dicevo prima. Infatti non è obbligatorio averci la barca. Assolutamente. Ora io ho la barca perché la uso anche per fare altri tipi di pesca. Perché sennò si poteva prendere tranquillamente un pattino. Ecco per fare magari il filmato in tre su un pattino. Oppure qua essendoci questi pontili. In questa zona diciamo sia Marina di Massa che a Forte Marmi, Pietrasanta. Lì di Camaiore. Cioè tutti hanno questi pontili lunghi che entrano in mare anche 300 metri. Infatti è una pesca che puoi fare tranquillamente anche dalla spiaggia dagli scogli. Basta trovare un punto dove c'è l'acqua pulita. E tanto le seppie si muovono non è che stanno in un punto solo. Sicché vengono giù mangiano. E magari non le facciamo le quantità che si fanno in barca. Chiaramente non è possibile. Però tre, quattro, cinque seppie per fare una mangiata le puoi fare tranquillamente. Prendetemi altri due o tre seppie e poi siamo a posto. Eccoci, ho fatto un esperimento. Ho detto vabbè proviamo perché era un periodo un pochino che non ci serviva più niente. Ho detto voglio provare a montare il bianco. Prima cala subito col bianco. Anche perché secondo me, comunque col pesce, con la roba di mare, il bianco ci sta meglio del russo, è vero? Ho fatto la battuta, vieni. Vai. Piotta. Là. Ho visto? Ah parlavamo dei colori. Proprio è questo il discorso che voglio far capire alla gente. C'è il mio amico del distributore. Guarda. Che? Questo è il colore che ha catturato in questo momento. Esatto. Per lui c'è solo un'esca di una marca di un colore che funziona. No. Queste credenze popolari. Allora, queste esche che ci sto pescando oggi, a prescindere dal colore, funzionano tutte. Quello lì è una cosa che ho provato e riprovato. Così che mi hanno fatto tante di quelle catture, questi squid qui che hanno la metà bassa, veramente. Però anche lì, se te hai una gamma di colori, ma tanto sono esche che costano anche poco, perché non costano cari al pubblico. Ora di preciso non me lo ricordo, però è una cosa veramente abbordabilissima. Ecco, perché anche qua ci abbiamo, no? Sì. Quelle che costano di più scatturano di più. Non è vero. Si chiama marketing. Esatto. Non è vero. Assolutamente non è vero. Le esche devono essere fatte bene, devono funzionare bene, devono avere dei colori che in acqua risaltano. E allora, queste qui che ci sto usando adesso, che poi ve le faccio vedere meglio, ho tutta la gamba dei colori. Quando uno ce l'ha 6, 5, 6, 7 esche, ognuna per un colore differente, a seconda di quello che vogliono mangiare, è più che sufficiente. Questa è che è una bella secchia, eh? Comincia già ad essere una bella taglia, eh? Vai. Vai. Eccola in altra, guarda. Eccolo. No, c'è stata male. C'è stata male. C'è stata male. La Sara, non so. La Sara ne avrà prese 10 e te 3, eh? Non vorrei dire. Forse è meglio che ti dedichi allo spinning. Io faccio l'inguadinatore folle. Esatto, esatto. Ahia, Sara c'è un'altra. Oh, Sarina. Oh, mamma. Vai, 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 vai. Vai, vai, che attacca. Vai, che attacca, vai. Attaccata, tio. Su, 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 alza la canna. Vai, Sara. Nooo. Adesso abbiamo ritrovato il punto. Sara, ma la guadini te per piacere? Grazie. Grazie, tesoro. Ti ho detto che come altezza stavano sui 7 metri, infatti sui 7 metri. le stiamo prendendo. Ragazzi, poi con questa barca c'è poco posto. Ci vuole una barca più grossa. Adesso vi farò vedere gli squid che ho utilizzato per questa sessione di pesca. VLP, by Marco Volpi, chiaramente. E' stato lui l'artefice di questi pescioli. Si sono veramente comportati alla grande. Si sono catturati in una maniera incredibile. Veramente bellissimi. Poi c'è anche questo qui che oltre ad essere un bianco, è un bianco fluorescente. Nell'acqua questo qua, quando ci sono delle condizioni un pochino più di scarsa visibilità, per dire quando siamo mattina presto o sera, è eccezionale. Questi sono i piombi, piombi agirelle che ho adoperato per questa sessione di pesca. Questi qui sono dei 20 grammi. Infatti oggi sto pescando questo del mare è calmo e c'è poca corrente con i 20 grammi tubertini, i black, passanti. Poi le girelle che ho adoperato sono del numero 6. Girelle con moschettone. L'NT. Come trecce montate sui murinelli ho adoperato un Viral dello 010 e come finale, dopo il Carbon Ghost che abbiamo visto prima, ho adoperato il Phantasm che è il top di gamma della tubertini per quanto riguarda i fluorocarbon, che ne ho già parlato diverse volte. Altra treccia, perché ho fatto una e un pochino l'altra, il Ryujin. Non c'è bisogno di presentazioni. Diciamo la treccia per eccellenza. In casa tubertini è... Della Momoi. Sì, della Momoi. Ma vedi di prenderle o le prendi? Ora ci provo. Ecco, bravo. L'importante è provarti. Dai, ti devo dare una mano. Torniamone subito un'altra, dai. Dai, l'ultima, eh. La Sara ci fa neri, neri ci fa pesca di sensibilità, come le donne. Sono sensibili. Vai, vieni. Bravo. Dai, dai, brava. Eh, grande. A volte sono anche troppo sensibili. Anche troppo sensibili. Guarda che bella seppia. Oh, ma lei le prende tutte belle. Guarda, ve la faccio vedere. Ma io, mica si scherza qua, eh. Qua è che seppie. Sì. Va. E allora salutate la gente che vi ha guardato. Aspetta che... Lo stai facendo questo cuore. Eh, non lo voglio dare in testa alla mia dolce metà. Vieni qua Sara, vieni. Eccoci. Noi abbiamo scoperto una nuova pescatrice di seppie. Vabbè, dai, è la prima esperienza a pescare. E penso che se la sia cavata abbastanza bene. Ma siamo sicuri che non è una modella del calendario Tubertini? No, no, no. Fatemi vedere che non è una modella del calendario Tubertini. Come si fa, fatemi vedere? Non sono una modella. Un bacetto. Ah, ma... No, 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 è mio. Allora, ragazzi, un saluto. Sì, vi saluto. Una mano un attimo scombussolata. Basta un bacino? Eh, sì. Lei è sensibile con la calma a mano. Se volete scendo, allora. Dai. No, dai. Io vi saluto. Insomma, spero che sia stato un video simpatico e divertente. Comunque, nonostante quello, è un video divertente. Questo video che vi fa capire veramente che questa è una pesca adatta a tutti. Alle famiglie, come ripeto prima, ai bambini, a chi non ha mai pescato. E per divertirsi e per mangiare, perché a tavola queste sono eccezionali, è il massimo. Io vi saluto da Forte dei Marmi. Ciao a tutti. Da Sara vi saluta. Pesticia la notizia. Pesticia la notizia. Ci abbiamo una seppia attaccata. Ciao. Salute. Ciao.